Dopo aver fatto tappa in altre località delle Marche, intorno alle 17.30 di domenica scorsa, al Pesce Azzurro è arrivato il Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, Antonio Tajani, candidato alle elezioni europee, insieme al Coordinatore Regionale di Forza Italia, Francesco Battistoni. Ad attenderlo, oltre ad un nutrito gruppo di simpatizzanti e il gruppo dirigente di Forza Italia, c'era l'Assessore Regionale Stefano Aguzzi, la candidata alle europee Graziella Ciriaci, i sindaci di Urbino, Colli al Metauro, Terre Roveresche, Monbaroccio, Montegrimano, Terme e i candidati sindaci di Fano, Luca Serfilippi e Marco Lanzi di Pesaro. Ecco come Tajani ha illustrato l'importanza del prossimo appuntamento elettorale dell'8 e 9 giugno. Per far contare di più l'Italia in Europa, l'unico voto utile è quello per Forza Italia. Perché siamo parte del Partito Popolare Europeo, il Partito Popolare Europeo è quello che dà le carte in Europa, quindi se vogliamo far contare più l'Italia abbiamo bisogno di una Forza Italia più forte all'interno del Partito Popolare Europeo. Poi naturalmente siamo una forza seria, credibile, affidabile, assicurabile, rassicurante e che vuole occupare lo spazio che c'è tra Giorgia Meloni e Lischlein. Ritiene che l'Italia possa aspirare alla presidenza della Commissione Europea? Noi possiamo sempre aspirare, però mi pare difficile perché toccherà al Partito Popolare Europeo esprimere il Presidente della Commissione Europea e non mi pare che il Partito Popolare Europeo abbia indicato un italiano. Ministro, la sicurezza è una delle emergenze nel nostro territorio a livello di ordine pubblico. Lei ha una visione molto più ampia a livello internazionale, possiamo stare tranquilli? Assolutamente sì, certo serve lavorare per la sicurezza internazionale e per la sicurezza nazionale. Serve sempre un maggior controllo del territorio e noi siamo grati alle forze dell'ordine, i carabinieri, i polizia, i guardi finanze, la polizia penitenziaria, la polizia locale per il prezioso lavoro che stanno svolgendo. Purtroppo la situazione è sempre molto complicata, abbiamo anche inasprito alcune norme proprio per tutelare le nostre forze dell'ordine, garantire la sicurezza dei cittadini, poi c'è la sicurezza internazionale, la sicurezza dei trasporti. Pensiamo anche a quello che stiamo facendo per garantire i trasporti nel Mar Rosso, attraverso il canale di Suez. L'Italia è un paese esportatore, il 40% del nostro prodotto interno lordo viene dall'export e quindi anche grazie alla missione militare europea, Aspides, guidata dall'Italia, dalla nostra marina militare, garantiamo la sicurezza del trasporto marittimo. Le Marche sono state sempre un po' al margine dell'attenzione del Governo centrale, la sua presenza qui vuol dire che ci sarà più attenzione? Io sono sempre stato molto attento alle Marche, sono stato per decenni, parlamentare europeo anche delle Marche, quindi ho sempre seguito con la massima attenzione i problemi di questo territorio così articolato, c'è sempre il problema delle infrastrutture, ci servono investimenti e mi auguro che l'alta velocità possa essere sempre più frequente, bisogna fare un grande lavoro per il porto di Ancona che deve permettere alle imprese del territorio di poter esportare di più con portacontaineri più grandi che possono pescare, mentre non possono farlo perché sennò i containeri partono da Ancona, vanno a Giulia d'Aura e scaricano su portacontaineri più grandi. E poi c'è il collegamento trasversale tra il terreno e l'adriato che è di fondamentale importanza. Grazie a tutti.